Ho un cappello abbastanza improponibile oggi, per questo il cappello. Ho il barbiere, quindi dopo sarò sicuramente più presentabile, ma non volevo mostrare quello che c'è qui sotto, guardate che schifezza. Quindi facciamo che tengo il berretto e non concentriamoci su questo dettaglio. Prima di iniziare il video di oggi però, volevo farvi vedere una piccola cosa, una piccola clip, e ve la mostro proprio ora. Allora, io avevo preso questa, doveva arrivare però prima dell'Inter Juve, perché mi sarebbe piaciuto vedere Inter Juve con questa, perché ovviamente Inter Juve cosa ti viene in mente a te? La sfida, la sfida tra Inter Juve. Tra Inter Juve, me ne vengono in mente tante di Inter Juve. La più famosa, magari che possa essere di buon auspicio in questa situazione, un po' così. Oddio, non mi viene in mente. Non ti viene in mente? E se mi faccio vedere questa? Mi viene in mente qualcosa? Eh sì, quella lì è capitano. Che cosa richiama però questa? È fasto, è quella del capitano. Sì, ma questa maglia qui, che giorno c'era? Il 5 maggio. Il 5 maggio. Speriamo, eh? Perché giochiamo anche con l'Udinese, poi, domeniche. Eh, quindi... 2-0, è sempre del vero. Speriamo che possa essere di buon auspicio. Che bella, che bella. Presa subite. È bellissima. Mi hanno detto che era originale, però lo so. Da vedere così? No, eh. Sembra di sopra. Però ci assomiglia, dai. Sì, ci assomiglia, però pagata come originale. Quindi magari facciamo un reclamo. Oh, questa cosa qua. No, dai, è originale. E la scuicata è questa, che non è originale, perché non c'ha... Lo scudetto, lo stemma. Nessuno, lo stemma, è quello. Vabbè, ce la facciamo andare. 5 maggio, 2-0. Sperando che possa esserci in un altro quest'anno, anche se la vedo un po' più dura, cosa dici? Però è molto bella. La maglia è non bella, bellissima. Però ho questa paura che possa non essere originale. Quindi se vi intendete di questo tipo di prodotti, fatemi sapere se secondo voi questo stemma è originale. Un pochino mi puzza, devo dire la verità. E ho visto qualche maglia in vendita su ebay che al suo interno non aveva questo tipo di etichetta della lotto, ma era differente. Quindi ho veramente paura che questo sia un falso e devo fare in modo di farlo sapere a chi me l'ha venduta su Vinted. Ma perché ho acquistato questa maglia che al momento metto qui? Perché il campionato per me è ufficiosamente finito, ma non ufficialmente finito. Perché è vero che l'Inter è avanti, è vero che l'Inter ha un grande vantaggio, questo vantaggio può diventare ancora più abbondante. Però la storia della Juventus, proprio nei confronti dell'Inter, in una lotta a Scudetto, ci ha insegnato che i miracoli possono accadere. Poi si tratta di miracoli, non di cose che accadranno molto probabilmente o che è probabile che accadano. No, stiamo parlando di cose che sono poi difficili da realizzare. Quindi questo sarà il mio mood da qui al termine della stagione. Non succede, ma se succede. Se devo andare a dare, non lo so, una percentuale, diciamo così, e magari questo esercizio è simpatico, divertente, da fare anche questo sotto nei commenti. Io vedo una Juventus che all'80% non vincerà oggi lo Scudetto, l'80%. In caso di vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, per quel recupero, quindi la Juventus che si porta a meno 7 dalla vetta, quest'80 diventa anche un 90 per quanto mi riguarda. Però sono curioso di sapere le vostre percentuali qui sotto, sempre con la consapevolezza che è ufficiosamente finito, ma non ufficialmente finito. E questa è la cosa che dovrà spingerci da qui in avanti, perché comunque l'anno non è finito. La stagione sportiva non è finita con la sconfitta di San Siro, anzi ci sono comunque delle partite da giocare, c'è appunto la Champions da conquistare, c'è da provare ad arrivare almeno al secondo posto, dato che in questi anni abbiamo fatto quarto e terzo, quindi un secondo posto sarebbe comunque qualcosa di più positivo. Però ritorniamo poi al discorso che vi facevo ieri, la Juve deve tornare a vincere. La Juventus che non vince per due anni già fa notizia, se la Juve non vince per tre anni diventa secondo me ancora più rumoroso, per i tifosi, per l'opinione pubblica, per i calciatori, per la dirigenza, per gli allenatori, per tutti. La Juventus deve vincere, deve tornare ad essere una squadra ultra competitiva. Per quello che vi dico, non cambia la sconfitta di San Siro il giudizio che ho di questa stagione. Io non ero convinto che la Juventus potesse lottare per lo scudetto già per questa stagione, per mille motivazioni che trovate comunque nei video che vi ho portato quest'estate, anche quando vi andavo a raccontare quella che secondo me sarebbe stata la stagione della Juve. Però in questo momento la Juventus è al secondo posto, la Juventus ha fatto un certo tipo di campionato fino adesso, però poi la differenza tra un certo tipo di campionato e vincere, la differenza è netta, non possiamo farla passare come se fosse la stessa cosa. Questo è secondo me il discorso che va affrontato. La Juve ha la possibilità di vincere un trofeo quest'anno alla Coppa Italia, poi ripeto, sul scudetto non succede, ma se succede, e ce lo guardiamo con questo mood qua, la Coppa Italia diventa un must, non tanto perché la Coppa Italia andrebbe a salvar la stagione, la Juventus che in tre anni ti vince una Coppa Italia è comunque troppo poco, decisamente troppo poco, però ti darebbe quel contentino finale, un po' come se magari ti fai tutto un pranzo o una cena a risparmio energetico con cose che magari mangi perché sei dietro, però poi ti concedi quel dolcino finale, non è che sei contento, la cena non è stata chissà che cosa, però quel dolcino finale un pochettino mentre va giù nel collo, nell'epiglottide, nella gola, ti dà quella sensazione di premio, di premio che ti sei concesso, non sei felice però vada a dolcire un po' tutta la cena o tutto il pranzo, ecco io la vedo in questo modo qui. Poi ragazzi secondo me la Juventus quest'estate, prima di quest'estate, questa primavera dovrà affrontare il tema allenatore, cioè non si scappa da questa cosa qua, perché purtroppo la Juve deve sistemare il fatto che non si stia vincendo, cioè non può semplicemente dire, eh vabbè gli altri sono più forti o eh vabbè si è vinto in passato, cioè i dirigenti della Juventus non possono ragionare così, i dirigenti della Juventus devono ragionare per riportarla a Juventus alla vittoria, e quindi io in questo momento vedo due soluzioni possibili, rimane Allegri e si rinnova Allegri perché si ha fiducia in lui e si crede che si possa davvero aprire un nuovo ciclo con Allegri, ma allora ad Allegri servono determinati tipi di giocatori, determinati tipi di squadre e si crea la squadra su quella falsa riga lì, si va a massimizzare le caratteristiche di Allegri, con cui Allegri ha già vinto la Juventus in passato, però significa che poi devi fare gli investimenti, significa che devi andare sul mercato e prendere i calciatori che vuole Allegri, perché Allegri nove volte su dieci con la squadra più forte il campionato te lo vince, lo dicevo anche ieri, e questa è un'opportunità, perché Allegri è in scadenza, non puoi iniziare un campionato con un allenatore in scadenza, non esiste, non è progettuale, non è una cosa logica né per l'allenatore né per la Juventus, seconda opzione, decidi di staccarti da Allegri perché non sei stato soddisfatto di quello che è stato il suo percorso nei due anni e mezzo, tre precedenti, e vai su un altro profilo che con la squadra che ha a disposizione e con l'idea di progetto di Juve che ha a disposizione, ragazzi che vengano su da l'Under 23, Juve economicamente sostenibile, eccetera, eccetera, riesce comunque a raggiungere dei risultati magari differenti. Cioè queste sono le due strade, se noi prendiamo un allenatore come Allegri e gli chiediamo di fare un progetto che non è nelle sue corde, non ha senso. Così come prendiamo magari un allenatore emergente, gli chiediamo di fare una roba differente, non è ovviamente logico. La Juventus deve ripartire da questa concezione qui. Poi, io ribadisco, secondo me la Juve non può prescindere dalla vittoria, dal pensiero di vittoria. Cioè io iniziare un'altra stagione in cui ci raccontiamo che l'obiettivo di entrare nelle prime quattro non la voglio mai più fare nella mia vita. Perché è una cosa che mi dà fastidio da questa estate, lo sapete, continuo ad avere fastidio quando sentiamo che l'obiettivo è questo, ma l'obiettivo della Juventus è vincere. Poi se vogliamo raccontarci un'altra roba è un altro discorso. Però la Juve deve ragionare e deve capire che cosa vuole fare. Perché se l'obiettivo della Juventus alla fine è sempre solo entrare nei primi quattro, allora c'è da alzare le mani e c'è da dire che è stato cambiato completamente la concezione di quello che è sempre stato la Juventus, di quello che ci hanno sempre raccontato essere la Juventus. I proprietari, i dirigenti, gli allenatori, i giocatori e anche proprio la società a livello marketing. La Juventus non è la squadra che entra nelle prime quattro e si accontenta. La Juventus è la squadra che tutti gli anni parte per vincere lo scudetto. Questa è la Juventus. Poi se invece il discorso economico, sociale, quello che volete, adesso è differente, d'accordo, però sappiate che stiamo modificando quella che è stata la storia della Juve. Perché io la Juventus che a inizio anno mi dice parto per entrare nelle prime quattro e non per vincere l'ho sentita probabilmente soltanto dopo che siamo tornati in Serie A da Calciopoli. Tutte le altre annate io ho sempre sentito che la Juventus compete per vincere. Mi sbaglierò io? Può essere. Assolutamente. Però io voglio portare a casa un trofeo anche in questa stagione e poi ragionare effettivamente su quello che sarà il futuro della Juventus. Io la mia scelta l'ho fatta. Lo sapete, io avrei cambiato allenatore anche in caso di scudetto. Perché per il progetto che ha dichiarato la Juventus qualche anno fa e quindi di essere una rosa autosostenibile, una rosa che non va a fare determinati tipi di acquisti e semplicemente per quello che è stato il rendimento sportivo di Allegri in questi due anni cambierai tecnico. Perché io non sono uno che parte prevenuto e dice no io questo non lo voglio allora no io ho detto bene c'è Allegri lo facciamo lavorare vediamo quelli che sono i risultati che raccoglie Allegri è un ottimo tecnico non credo che sia coerente col progetto della Juve però Allegri è un vincente sono contento che torni perché è uno che ha vinto con la Juventus. Gli abbiamo dato un anno, non si è vinto gli abbiamo dato un altro anno, non si è vinto gli abbiamo dato un altro anno è un anno positivo perché è un anno positivo ma non è un anno in cui si vince quindi è ovvio che poi a un certo punto vanno tirate le somme perché se no se l'obiettivo è metto Allegri in panchina e gli faccio un progetto che è in antitesi rispetto a quello che chiede lui o che va a valorizzare quelle che sono le sue caratteristiche e poi ogni anno diciamo semplicemente vabbè ma non abbiamo i giocatori di esperienza gli altri sono più forti e quindi come fai a vincere allora non stiamo facendo il bene della Juventus non stiamo facendo il bene di Allegri non stiamo facendo il bene di nessuno la Juventus è sempre sopra ogni cosa questo dobbiamo ricordarcelo con grande chiarezza ciao ragazzi